l'amuleto del vampiro di robert leonard russell letto da la musifavolista camminavo già da un po di tempo sotto la pioggerelina battente quando mi imbattei per la prima volta nello squallido negozietto di anticalie la cui insegna scolorita annunciava g codopolis rigattiere si trovava in una strada stretta e sporca in una parte della città a me totalmente estranea era ormai quasi mezzanotte ma nel negozio c'era ancora una luce accesa e io sebbene il luogo avesse un aspetto stranamente poco invitante provai l'improvviso inspiegabile impulso di entrarvi perciò spinsi la porta e vi entrai una volta dentro notai a stento la mercanzia affastellata lungo le sudice pareti poiché il mio sguardo fu subito catturato dall'unica altra persona presente nel negozio in realtà abbastanza singolare da meritare tutta la mia attenzione era un uomo alto magro come uno scheletro con indosso uno strano abito nero senza più forma e la parte del volto non ricoperta dalla barba arruffata non pareva nient'altro se non un foglio ingiallito di carta pergamenata teso su un cranio ma la cosa che mi attirava di più erano gli occhi grandi neri e lucidi sembravano scrutarmi dentro fin nella parte più recondita del mio essere emanando una forza tutta loro cominciai a parlare ma le parole non vollero uscire tentai di muovermi ma i muscoli si rifiutarono di ubbidire al cervello l'unica cosa che riuscivo a fare era fissare quegli occhi e perdermi nella loro profondità fui sommerso da uno stato di buia e incoscienza e non ricordo cosa accadde fino a quando non barcollai fuori in strada dopo un po di tempo stringendo convulsamente in una mano un oggetto piccolo e duro pagai come inebetito per qualche tempo poi mi trovai quasi senza rendermene conto davanti alla porta dell'edificio in cui abitavo salì le scale fino alle mie stanze mi gettai sul letto completamente vestito e mi addormentai immediatamente era tardi quando la mattina seguente mi svegliai con una sensazione di spossatezza e un leggero mal di gola ero intorpidito e indolenzito per aver dormito vestito e in mezzo alla schiena c'era un qualche cosa piccola e dura che mi dava fastidio mi rigirai ritrovai la causa e portai quell'oggetto alla luce era un amuleto un rosario di perline nere con appeso un crocifisso capovolto che al posto del cristo aveva l'immagine di uno sceno satiro era senza dubbio l'oggetto che avevo preso nel negozio del rigattiere e mi impensieriva quasi quanto gli strani avvenimenti della notte precedente rimasi nella mia stanza tutto il giorno poiché ero caduto in uno strano letargo era accompagnato da un'insolita depressione che si trasformò quasi in melanconia quando il giorno stava per finire e il buio si avvicinava tentai parecchie volte di concentrarmi su questo o quel libro ma le pagine stampate non riuscivano a interessarmi e di tanto in tanto qualcosa si frapponeva fra gli occhi e le parole che avevo davanti era il volto del vecchio del negozio di anticalie gico dopolis andai a letto presto ma il sonno mi abbandonò per ore mi ritrovai spasmodicamente nel letto prima che finalmente il dormiveglia non mi reclamò e il dormiveglia mi portò il tormento di sogni terribili ero seduto sul mio letto nel nero nulla dello spazio interstellare e una cosa sibilante mi rosicchiava la gola una cosa con la faccia di gico dopolis il negoziante poi precipitavo in un pozzo nero che non aveva fine e la scena svaniva e rimanevano solo i suoi occhi così il sogno finiva la mattina seguente mi svegliai con la stessa apatia che avevo provato il giorno prima chiamai il dottor mcg una persona flemmatica e priva di immaginazione che mi visitò meccanicamente e mi prospettò la sua diagnosi sembra anemia mister trellan disse quando ebbe finito ma non ne posso ancora essere certo se riposi per qualche giorno e poi potremo sapere qualcosa di più preciso il dottore era appena uscito quando venne a trovarmi pietro giacini un mio amico italiano che viveva nel lato opposto della casa gli bastò una sola attenta occhiata perché i suoi occhi si spalancassero per il terrore dio jim e che già questa è opera del diavolo insistette per esaminarmi il collo poi prese uno specchio e mi fece vedere cosa aveva scoperto due minuscole punture sulla vena giugolare di colpo mi ritornarono in mente i sogni della notte precedente jim cominciò giacini con un tono grave che appariva quasi ridicolo è successo qualcosa che cosa devi dirmi tutto quello di anormale che ti è successo recentemente io voglio aiutarti e dio sa se avrai bisogno di aiuto così gli raccontai la mia bizzarra avventura nel vecchio negozietto immerso nella nebbia quando arrivai alla descrizione di gico dopolis il viso olivastro del mio amico si contorse in una smorfia mentre mormorava qualche cosa che terminava così è ancora peggio di quanto avevo immaginato vedendo il tuo aspetto smunto e i segni sulla gola tu hai sentito parlare dei vampiri vero jim certo pietro cominciai io ma non penserai mica che lui è un vampiro ma come queste cose esistono solo secondo superstizioni ormai superate e mi interruppi vedendo l'occhiata che mi aveva lanciato no non è un vampiro disse giacini così pensavo all'inizio ma la descrizione che mi hai fatto di lui dimmi jim ti ha dato qualcosa io annui cercando l'amuleto tra le carte e i libri sparsi sul tavolo e glielo porsi lui gli dette solo un'occhiata si fece la croce e lo ributtò sul tavolo dopo essersi frettolosamente scusato pietro corse in camera sua io mi stesi sul letto fissando il soffitto e domandandomi che cosa stava succedendo l'incontro con codopolis i sogni terribili le punture sul collo lo strano comportamento di pietro e il suo accenno alle vecchie superstizioni sui vampiri cosa poteva significare tutto ciò dopo pochi minuti giacini era di ritorno con in mano un libricino rilegato con una copertina nera senza dire una parola si sedette e cominciò a sfogliarlo io ne lessi di sfuggita il titolo si chiamava vampiri alla fine pietro trovò il paragrafo che cercava e iniziò a leggere ad alta voce queste strane frasi il vrico lacas della superstizione greca leggeva con la sua voce modulata con un lievissimo accento straniero è il corpo non morto di un mortale perverso fino all'eccesso non è più vivo ma non è neanche morto e si nutre del sangue fresco di qualche sfortunato contrariamente al vero vampiro non si rinchiude all'interno di una bara durante il giorno ma in quel periodo è abulico e inattivo soprattutto se la notte precedente ha mangiato dissimilmente dagli altri vampiri il vrico lacas si nutre del corpo delle sue vittime quando tutto il sangue è esaurito esso è inattaccabile con i simboli sacri eccezione fatta per l'immagine di nostro signore sulla croce contro il mostro sono ugualmente inutili il palo il coltello e la pallottola d'argento come qualsiasi altra arma mortale solo il fuoco può distruggere un vrico lacas tuttavia egli è legato alla vittima da qualche vincolo un amoleto o un feticcio stregato e la vittima è libera se il vincolo viene in qualche modo distrutto io trasalì quando sentì parlare di un amuleto tutto questo aveva un significato a me nascosto avrei voluto interrompere giacini ma lui mi fece cenno di stare zitto e continuò a leggere il vrico lacas si differenzia dagli altri vampiri per la pelle particolare simile a papiro invecchiato per gli occhi ipnotizzanti per la normale peluria sul viso e per la sua emaciazione e in quel momento lanciai un grido giacini doveva aver lasciato cadere il libro per guardare me ma io non mi rendevo conto di nient'altro che non fosse la descrizione del vrico lacas contenuta in quel vecchio libro e che calzava pennello a gico dopolis un rivolo di sudore ghiacciato mi corse giù per la schiena quando fui obbligato ad accettare quella terribile verità codopolis era un vrico lacas e la sua vittima ero io adesso è chiaro anche a te jim disse con tono comprensivo giacini sì sì balbettai io ansante ora mi è tutto chiaro pietro l'amuleto distruggilo deve essere quello il vincolo e il libro dice giacini prese dal tavolo il rosario blasfemo si avvicinò al camino e scagliò l'oggetto al centro della brace incandescente cadde rivolto verso l'alto conficcato tra la cenere e piccole fiamme lo lambirono tutto intorno tuttavia rimaneva inattaccato dalla vampa e a poco a poco il fuoco cominciò a retrocedere fino a che l'orribile simbolo non rimase su un mucchietto di carboni spenti al centro del focolare giacini si strinse nelle spalle poi spostò quell'oggetto sul bordo del camino lo temevo disse ma c'è ancora una soluzione lo appesantirò con una pietra e poi lo getterò dal ponte di park street una volta nel fiume sarà sparito per sempre prese l'amuleto e uscì poco dopo tornò a dirmi che tutto era a posto perciò liberatomi di quel ninnolo infernale ero certo che tutti i miei guai fossero finiti passai il resto della giornata in grande serenità di mente e andai a letto subito dopo cena per addormentarmi quasi immediatamente dormi profondamente per un'ora o giù di lì poi fui svegliato da qualcuno che bussava alla porta andai ad aprire e trovai un fattorino con un pacco per me lo presi lo gettai sul tavolo senza aprirlo e tornai a letto poi dormi indisturbato fino a quando il sole filtrando attraverso la finestra non mi svegliò la mattina seguente il mio sonno però era stato tormentato da sogni in cui vedevo il vecchio codopolis intrufolarsi di nuovo nella mia camera per affondare i suoi canini nella mia gola quando mi alzai aprì il pacco che mi era stato consegnato una morsa di ghiaccio mi strinse la schiena quando vidi cosa conteneva nella scatola c'era lo spaventoso piccolo amuleto che pietro giacini aveva gettato nel fiume e in quel momento capì che il sogno terrificante della notte appena trascorsa non era affatto un sogno ma solo la spaventosa realtà trascorsi l'intera giornata con l'incubo dell'attesa perché sapevo che con l'arrivo della notte il mostro che si faceva chiamare codopolis sarebbe tornato a farmi visita il dottor mcg telefonò di nuovo quel giorno se soltanto avesse saputo la reale causa della mia indisposizione ne sarebbe stato tanto sconvolto da perdere la sua flemmatica compostezza ma in realtà mi avrebbe considerato un pazzo se gli avessi detto la verità giacini passò quasi tutto il giorno con me sedeva accanto al mio letto mentre gli raccontavo del ritorno dell'amuleto e dei miei sogni lui insistette per rimanere con me quella notte ma io rifiutai perché avevo in mente un piano ma se fosse fallito avrei rischiato di far cadere anche il mio amico nella trappola del mostro codopolis perciò quando scese la notte pur con una certa riluttanza pietro si accomiatò e io rimasi solo a lungo rimasi disteso nel letto al buio sentivo che non era lontana la fine perché non ero in grado di sostenere molte altre visite del bricolacas e se il mio piano fosse fallito ben presto il mio sangue sarebbe finito e l'orribile cosa sarebbe venuta per mangiarmi guardai la finestra dal lato opposto della stanza lì illuminato dalla luce dei lampioni della strada vicina c'era una faccia che conoscevo fin troppo bene quel cranio giallo con la barba quegli occhi malvagi potevano appartenere solo a quel mostro di codopolis cominciai a cadere in una sorta di ipnosi mi si abbassarono le palpebre si rilassarono i muscoli in tensione non avevo alcuna volontà di lottare sebbene sentissi sul petto il peso del bricolacas sebbene sentissi affondare nella mia gola i suoi denti aguzzi poi quando il mio sangue iniziò a defluire dal mio corpo caddi in uno stato di completa incoscienza lentamente a fatica riacquistai la sensibilità il mostro si era nutrito e poi era sparito nel buio eppure sentivo ancora il suo terribile potere su di me sapevo di dover agire immediatamente perché ero così debole che la prossima visita di codopolis sarebbe stata certamente l'ultima e avevo chiara davanti agli occhi l'immagine di quelle zanne e quei denti che sbranavano il mio corpo gettai via le coperte e mi alzai in piedi mi sentivo debole e stordito ma sapevo cosa dovevo fare e vesti in pochi minuti scivolai fuori dall'edificio nella strada buia e iniziai a camminare l'influenza di codopolis mi attirava nella sua tana come un magnete attira il ferro eppure a tutt'oggi non sono riuscito a ricostruire il percorso che quella notte mi portò alla fine in quel vecchio negozio la porta non era chiusa a chiave e io mi intrufolai in quel vecchio buco polveroso andai diritto verso la tenda che nascondeva il retro bottega e vi entrai un lungo divano al centro della stanza era disteso il vrico lacas con la maligna faccia gialla immobile e gli occhi scuri fortunatamente chiusi usci rapidamente dalla camera del mostro ora la mia mente era completamente sveglia dovevo affrettarmi a fare quello che mi ero prefisso prima che l'orrenda creatura si accorgesse che qualcosa non andava il vecchio libro che giacini mi aveva letto diceva solo il fuoco può completamente distruggere un vrico lacas e il negozio di codopolis era una vera e propria esca per il fuoco un fiammifero gettato in uno di quei cumuli di libri ammonticchiati nella tana avrebbe alimentato una vampa che si sarebbe velocemente estesa alle vecchie pareti di legno secco ammucchiai una pila di vecchi volumi sul pavimento e avvicinai un fiammifero alle pagine sbriciolate le fiamme li divorarono avidamente e io alimentai la fiamma con altri libri e con pezzi di legno degli scaffali il fuoco si propagò rapidamente ero così intento alla mia opera che non udì affatto il lieve rumore della tenda che si apriva alle mie spalle a me ne accorsi in tempo per voltarmi e vedere codopolis in piedi sulla soglia del retro bottega osservava inebetito il fuoco poi mi vide e i suoi occhi dardeggiarono pura ferocia con un ringhio animalesco si lanciò in avanti ora le fiamme crepitando bruciavano le pareti tingendo di rosso infernale l'intera sinistra scena afferrai disperatamente un tizione ardente dal fuoco e lo scagliai sulla faccia torva del mostro il fuoco si appiccò alla sua barba fluente quindi si propagò al vestito nero lanciò un solo urlo orribile poi cadde vacillando nel fuoco mentre codopolis spariva in quell'inferno crepitante io spalancai la porta mi lanciai nelle tenebre e corsi corsi fino a sentirmi esausto poi caddi la mia testa urtò qualcosa di duro e svenni rinvenni in un letto d'ospedale con la testa bendata e stranamente leggera chiamai un'infermiera e le chiesi cosa era successo lei mi disse che nelle prime ore della mattinata ero stato trovato in strada e che mi avevano portato in ospedale con una profonda ferita alla testa e una leggera commozione cerebrale quel giorno non mi fu permesso di ricevere visite ma il pomeriggio seguente venne a trovarmi pietro giacini gli narrai come si era conclusa la faccenda durante il mio racconto lui rimase tranquillamente seduto annuendo con un lieve cenno della testa di tanto in tanto a qualche particolare interessante quando il giorno dopo pietro tornò a trovarmi mi portò dei quotidiani comprese le edizioni dei giorni immediatamente precedenti gli sfogliammo uno per uno con la massima attenzione ma non trovammo alcun cenno all'incendio del negozio del rigattiere eppure la conflagrazione era stata così violenta che nessuna forza di questa terra e nemmeno quelle infernali al comando di codopolis potevano aver salvato il vecchio negozio da una completa distruzione così finisce il racconto ma a volte per finora sogno e dubito ancora che l'orrida esistenza da non morto di codopolis abbia avuto fine eppure quel mostro deve essere stato distrutto dal fuoco perché per quanto io possegga ancora il suo amuleto infernale che costituiva il legame tra di noi lui non è mai più tornato a trovarmi grazie per aver ascoltato l'amuleto del vampiro spero che questo racconto ti sia piaciuto se hai altri racconti sui vampiri da suggerirmi puoi scrivermi una mail oppure scrivermi un messaggio su instagram se le mie letture ti piacciono e vuoi sostenere il mio canale puoi offrirmi un caffè al link in descrizione oppure molto più semplicemente a costo zero puoi ascoltare i miei racconti in formato podcast su spreaker l'app di spreaker è gratuita e funziona su tutti i sistemi anche via web in questo modo puoi aiutarmi a far crescere questo progetto intanto grazie e noi ci sentiamo al prossimo racconto ciao 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 ciao